su di giri amici sportivi e bentornati al bardo risponde anzi a chi è di al bardo ecco qua la nostra bellissima rubrica oggi domanda molto molto asciutta ma interessante mi chiedono cosa ne pensi dell'uscita di scena di john cena io me l'aspettavo se leggete la mia fan page di facebook da un po di tempo vi accorgerete che john mi aveva messo la pulce nell'orecchio già due anni fa alla prima vrestelmania quando l'ho intervistato e anche nell'ultima quando mi ho chiesto quali erano i suoi impegni i suoi progetti per il futuro dove si vedeva fra una decina d'anni e lui insomma un po svicolato dicendo che ha vinto 15 cinture quindi pensava di arrivare a 30 l'ha buttata un po surridere la cosa mi ha un pochino insomma da ex giornalista investigativo mi ha un attimo messo sul chivalà che ho detto strano john cena è uno che le domande le guarda in faccia le prende a sberle gli mette un termometro in bocca gli prova la febbre e poi gli rimbocca le coperte e le mette a letto possibile che stavolta non affronti di petto il quesito qui gatta cico io credo che john abbia dato tanto alla wwe è stato uno degli atleti più impegnati non solo nel ring ma anche nelle iniziative collaterali la beneficenza l'essere presente come personaggio il presentatore i film e chiaramente ora che non è più di primo pelo non è più giovanissimo gli acciacchi aumentano la fatica si fa più fatica perdonate il gioco di parole a sostenerla e lo stress fisico non è più quello che avevi quando l'età era giovane e verde quindi ci sta che john voglia attenuare ridurre i suoi impegni io credo che il wrestling sia effettivamente nel suo sangue sia la sua primaria vocazione però le sirene sono tante il cinema quello pesante chiama battista ora sta facendo sfraceli the rock prima ancora insomma c'è un mercato per lui c'è un mercato anche come conduttore televisivo perché lui buca lo schermo sa parlare è uno che ha carisma è uno che piace è uno che ha sempre predicato e vissuto valori positivi e quindi anche dietro di sé è una storia importante la mia sensazione è che con l'andare del tempo john rimarrà un nasso nella manica nella wwe nel roster ma cercherà di alternare un po tutti gli impegni sia per allungarsi la carriera quel work smart che si è dato fuori un po anche nella diatriba recente tra the mids e daniel bryan e un po cercherà di mettere il piede in più scarpe non lascerà il wrestling perché ripeto l'ha detto più volte quella è la sua vita però è anche logico normale giusto secondo me dopo così tanti sacrifici dopo aver dato così tanto al wrestling che provi anche a fare dell'altro non farà credo come the rock che abbandonerà per anni per poi tornare a fare un match una tanto io credo che john da qui in avanti si sdoppierà si triplicherà si quadruplicherà e lo vedremo un po in tanti in tante vesti differenti per me è una bella cosa perché gli permetterà anche di tenere fresco e vivo il suo personaggio poi quando ci sarà bisogno di un atleta con ascendente sul pubblico di chiara fama sarà lì pronto per dei program di alto livello e guardate anche l'altro lato della medaglia poi se non c'è john cena significa che qualcun altro dovrà darsi da fare rimboccarsi le maniche per prendere il suo posto quindi largo ai giovani oppure la largo a chi al top non c'è ancora arrivato insomma queste sono le mie opinioni al riguardo ma qua sotto nei commenti potete aggiungere le vostre mi raccomando è in maniera educata poi se il video vi è piaciuto fate una condivisione che vi costa è soltanto un click così mi aiutate ad ampliare la fan base di questi video su youtube che poi vengono condivisi anche sugli altri miei social se vi va di farmi delle domande sempre qua sotto potete scriverle mi raccomando concisi ok non fate mille premesse anche se io vi suggerisco di approfittare dei topic periodici di raccolta domande che apro sulla mia pagina ufficiale facebook direi che per ora abbiamo terminato come al solito grazie per l'ascolto ci sentiamo presto ovviamente sempre e solo qui ciao